Poi dopo come se fosse morto due volte il suo figlio, per cui la reazione del padre forse è anche limitata, qualcuno avrebbe reagito anche peggio, è un dolore straziante, ora però oltretrovare i colpevoli vanno trovati perché una risposta va data a queste persone, bisogna intervenire anche su tutte quelle persone senza luce, gente, frazioni che ieri ci arrivavano, mi stupisce che ci arrivano i giornalisti e i volontari, non ci arriva lo Stato, questa è una cosa agghiacciante, vanno tutti messi in sicurezza, questa gente bisogna arrivare da tutti, bisogna dargli un tetto, non è che ora come dopo il terremoto li vediamo fra cinque mesi, che non hanno ancora le case dove stare, vengono buttati di qua, di là, non hanno nessun tipo di risposta, bisogna che almeno lo Stato, visto che ha sbagliato prima, ora intervenga, intervenga seriamente, che lo Stato si munisca di mezzi perché questo come abbiamo detto non è stata una calamità, lo sapevamo, sapevamo che lì nevica, sapevamo che sarebbe nevicato tanto e nessuno ha portato i mezzi lì per poter intervenire.